bentornati grazie in questo nuovo video qui è verde oggi e come c'è maremma ma io l'ho sbagliato c'è giuseppe salve ci troviamo dentro l'ufficio bellissimo che ha fatto lui serenamente ha fatto qualcosa anche di altro album fauna e poi ora dobbiamo dormire perché ci dorme e perché si dorme il ponte devo fare come lo faccio con che legno lo faccio cosa il ponte allora ok adonimo pure per prendere drop hai fatto l'ho per no ti sei messo accanto l'ho fatto io quello lì così si può prendere senza hello guys I today I dimostro you how to fare a good ponte to passare in mezzo all'acqua tipo gesù cristo quindi voi ora pigliare terra mettere wood mettere wood tanto wood però not lavorato verso verso up mettere wood verso up and pigliare crafting table perché siete perché you are so shame pigliare tante slub slab slub e mettere per bene per fare ponte mettere tante slab allungare ponte tanto in modo che così ponte sia bello grande quindi una volta allungato slab vabbè sapete che vi dico mi sono rotto le palle di fare sta cosa quindi ora vi lascio il video del ponte velocizzato e basta ciao 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 Grazie a tutti. 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 Sto tornando in superficie, 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 un attimo che faccio del torcinto, non così tante torce. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Mi faccio di fare un attimo. E' un attimo che ho messo da... Quanto? 40 Oh, abbiamo tutte le torce Voi stag... ha fatto il terrorista, più del normale Nel senso, voi si buttano dall'alto Creeper Creeper Abbiamo la torce per la torce Sai quante torce ho? Quante? 2 stacche e 50 E la madonna Abbiamo torce per tutta la serie Uno f***e tuo Dai un teppo a Cesare Ah, Cesare quel di Cesare Eh, poi non ero tutti i coglioni, Cesare muore Hello It's me Oh no, hello Mi rimasto malissimo Bene ragazzi, il video si conclude qui Tu cosa vuoi dire Giuseppe? Ecco Eh, il video vi saluto